Salve! Stasera voglio parlarvi della sezione aurea. La sezione aurea è una proporzione particolarmente armoniosa che noi troviamo in natura quasi dovunque, nella struttura di certi minerali, nei cristalli, nelle piante, negli animali, anche nelle proporzioni del corpo umano stesso. Il numero che la rappresenta è chiamato numero phi, come Firenze, dalla lettera greca che è stata utilizzata come simbolo e corrisponde ad un numero irrazionale che noi identifichiamo come 1,618. Irrazionale perché dopo il 618 le cifre continuano all'infinito e quindi non possiamo in realtà dargli un termine, però noi ci fermiamo grosso modo alle prime tre cifre, quindi 1,618. Tra le varie caratteristiche di questo numero particolare possiamo notare come sia l'unico che, posto sotto radice quadrata oppure elevato al quadrato, genera altri numeri che, dopo la virgola, avranno la stessa parte decimale. E mi spiego meglio. 1,618 sotto radice quadrata diventa 0,618. 1,618 elevato al quadrato diventa 2,618. Quindi la parte decimale non cambia in nessun caso. Ed è l'unico numero di cui possiamo dire questa cosa qua. E con questo anche per oggi abbiamo finito. Colgo l'occasione per dire che il giorno di oggi, la giornata di oggi, 14 marzo, che in inglese si segna 3,14 perché mettono prima il mese e poi il giorno, è internazionalmente considerata la giornata della matematica. E quindi con un doppio augurio vi auguro un buon fine settimana e dalla prossima volta. Arrivederci!